come stai? buongiorno buongiorno come stai? tutto a posto? tutto a posto? come stai? come stai? ti piace parlo italiano? voglio parlare italiano? buongiorno buongiorno buon pomeriggio buonasera allora tutto a posto? tutto a posto? va bene? va bene arrivederci arrivederci ciao ci vediamo domani ci vediamo come stai? come stai? come stai? potete dirci?